Vantaggio degli aspiti al ventiduesimo minuto La capolista CJ fa visita a un Alitalia che continua a stentare nonostante i tanti ottimi innesti estivi Un benvenuto da Luca Barbone al Circolo Sports City di Roma per la quinta giornata di A della Lega Calciotto Stropesca, un uomo in mezzo all'area di rigore, non arrivano i compagni, arriva dall'altra parte tutto da solo Un giocatore in maglia verde, mette dentro e tre militi a fare 1-0 all'Italia Penso di mettere un fine all'azione, qui Severini, si mette in proprio Severini Un gol pazzesco di Severini, un tracciante che si infila alle spalle di Boni e fa 2-0 Sbagliato una grande occasione qui di Francesco, poi Severini un altro gol Con l'esterno del destro, la mette nuovamente alle spalle di Boni, 3-0, sempre Severini Già andato anche il sedicesimo in questo momento, Regis anche se ne va in mezzo a tre avversari Poi serve il proprio compagno che va con il diagonale Profondo ti sei c'è Gimelli, poi Regis che accoglie il suggerimento di Gimelli Non riesce a tornare, si già accorcia le distanze con il numero 3, Simone Tovalieri Lo scatto di Luca Severini, di Francesco Portapalla Taglia adesso il campo per Severini che va di prima a scavalcare Boni La tripletta di Luca Severini, un gol più bello dell'altro 4-1 all'Italia Tovalieri Si accentra Tovalieri Con il destro prova a piazzarla Doppietta anche per lui Tovalieri prova a riportare in gara il CJ 4-2 e siamo ancora nel primo tempo Dall'altra parte Taroni, Di Francesco Severini dall'altra parte, Di Francesco lo vede adesso Severini ha la palla sul destro, sotto la traversa Poker di Luca Severini 5-2 all'Italia L'ennesima a prodezza di Severini Palla larga, sempre Severini Si coordina col destro Severini Boni la respinge, avesse fatto anche questo Severini Il gol del CJ I gol del CJ sono stati segnati entrambi Dal numero 3 Qui Regis, intanto va subito ad accorciare le distanze 5-3 Regis prova a riaprire la gara Dentro 4 palloni in questa gara Ora comincia questa sfida Con un grandissimo tacco per Di Francesco Che poi spara a lato Starace andare con il destro Che passa in mezzo a tante gambe Calcaro non se ne ravvede Accorcia ulteriormente le distanze del CJ E ora la partita è davvero riaperta Che va a mettersi sul primo palo Parte Col destro Severini Piega le mani a Bonis E fa il sesto gol Il quinto personale Straripante Severini Tiro da due passi del numero 10 Palla dentro Limardi accorcia nuovamente le distanze A 3 O meglio A 2 Dalla fine Fa 6-5 Il numero 19 De Santis Li porta via regolarmente il pallone Le finte di De Santis Sul triplice fischio Il direttore di gara Alla fine Lalital riesce a portare a casa I tre punti Dopo essere stata in vantaggio di molti gol Si è fatta recuperare Ma la partita è finita sul 6-5